Salve, sono DJ Verda, sono qui per spiegarvi un palettino facile, facile, che esisteva già. La febbre del sabato sera. Spiegazione dei passi e poi lo faremo con la musica. Si parte insieme indietro con la destra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sul dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rotolo con le mani, tacco, calcio, calcio e riparti indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si riparte sempre facendo il giro. Ok, adesso lo vedremo con la banca. Pronti? Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, adesso è sempre acceso, grazie, arrivederci al prossimo colletto. Ciao, ciao.